Ciao a tutti da Poderac, bentornati qui in una nuova recensione, oggi siamo qui a parlare del nuovo farm stick di Trasmaster ormai ce l'ho da circa due mesi fa, mi è stato inviato da Trasmaster, già su TikTok vi ho fatto vari confronti, vi ho parlato come mi trovo ma oggi sono qui su YouTube proprio per mostrarvi come riuscite a collegarlo direttamente nei vari simulatori e come si sta comportando è un joystick che praticamente va a simulare tutte quelle attrezzature che richiedono un controller, per esempio nei trattori, nelle pinze telescopiche oppure che ne so la mitica Scorpion King, ecco, tutti questi mezzi hanno bisogno di questo tipo di simulatore se volete è arrivata a fine video, magari vi do anche una mia opinione confrontandolo con il SciTech di Logitech attenzione perché il prezzo è bello che è differente e secondo me bisogna considerarlo per poi scegliere quale prendere è compatibile su PC e abbiamo ben 33 tasti, ad esempio già sul SciTech ne abbiamo solamente 25 è basato su questo joystick a tre assi, infatti oltre a utilizzarlo avanti e indietro possiamo utilizzarlo anche in maniera diagonale oltre che sinistra e destra, tutti i vari pulsanti qui laterali e centrali, su Farming Simulator voi lo prendete lo collegate, non dovete fare niente, poi se volete potete fare le vostre personalizzazioni mentre per quanto riguarda ad esempio Construction Simulator, sì, allora lì dovete fare qualche configurazione ma è davvero semplicissimo. Abbiamo anche due tasti qui nella parte posteriore per andare a fare lo switch poi del controller, infatti qui c'è un led che diventa bianco o rosso in base a come avete premuto quegli switch. Direi di collegarlo al PC e vederlo direttamente in gioco come funziona e vediamo in azione questo bel farm stick, adesso lo colleghiamo e vediamo cosa possiamo fare Trasmaster T128 è il volante che utilizzo per Farming Simulator ma c'è anche il T248 il farm stick di per sé potete collegarlo a qualsiasi volante, non è per forza obbligatorio Trasmaster perché si collega alla USB, però Trasmaster ha questo bel ecosistema, vedete, che vi permette di inclinare il volante insomma avete più realismo, vedete come su Farming abbiamo il volante inclinato tra l'altro vi danno anche la possibilità di mettere un bel pomello cosa possiamo fare? Vedete, se io vado a prendere il joystick posso andare a fare delle cose molto divertenti innanzitutto mi avvicino, mi avvicino un altro po' e qui mi dice vuoi agganciare? Non utilizzo la tastiera premo questo tasto e mi aggancio la lama è troppo in alto? Prendo il controller, vedete, e posso abbassare e alzare la lama principale oppure abbiamo la necessità di azionarlo, vediamo se indovinate per azionarlo, qui vedete gli ingranaggi vi fanno capire vuoi abbassare la lama? Devi premere il tasto per abbassare la lama c'è proprio il simbolino, non ti puoi sbagliare, non puoi confonderti con altri pulsanti abbiamo anche il pulsantino, qui vedete, per dispiegare la trebbia vi faccio vedere, ecco, adesso era già dispiegata adesso la sto richiudendo abbiamo il pulsante delle luci, abbiamo il pulsante per i lampeggianti abbiamo il pulsante per le frecce, vedete abbiamo il pulsante anche per cambiare veicolo per esempio, non mi piace più, vuoi andare sul muletto? Posso tranquillamente cambiare adesso c'è il motore automatico, quindi mi va a perdere l'accensione però abbiamo il tasto di accensione, spegnimento per esempio, vedete in basso a destra c'è il cruise control impostato a 20 io andando a premere il tasto qui sotto vedete qui sotto c'è un pulsante io premo il pulsante, mi fa lo switch in questa maniera posso utilizzare la rotella non più per lo zoom, ma per andare a regolare il cruise control ok? Io basta che ruoto la rotella voglio ritornare che devi farlo zoom, premo il pulsante dietro e ritorno a fare zoom, de zoom molto molto dinamico da questo punto di vista così ci muoviamo abbiamo la possibilità anche di scendere dal veicolo abbiamo la possibilità insomma di un sacco di tipo vedere la mappa di muoverci, insomma tante tante cose interessanti io direi a questo punto di risalire un attimo sul veicolo e vi faccio vedere come lo azioniamo ok? Per esempio prendiamo qui il pulsante per azionare ok vabbè qui è secco quindi in realtà non faccio niente abbiamo già tutto quello possibile e immaginabile passiamo magari ad un altro veicolo per vedere cosa possiamo fare tipo in questo muletto accendiamo anche qui il lampeggiante accendiamo le luci cosa possiamo fare qui? possiamo anche in questo caso alzare e abbassarci se facciamo sinistra destra vedete si inclina e ci abbiamo anche qui vedete frontalmente quello che fa faccio vedere che ad esempio qui se vado a premere questo pulsante guardate per esempio nei muletti posso muovermi per andare a caricare sinistra destra all'interno del veicolo anche in questo caso posso fare zoom, de zoom o regolare il cruise control altri pulsanti qui adesso non mi vengono in mente ma comunque se ci giocate capite bene in automatico anche con F1 quello che dovete premere per utilizzarlo qui abbiamo la trebbia qui abbiamo un bel trattore ecco per esempio la scorpion king ecco la scorpion king è un altro esempio dove questo strumento diventa fondamentale vi faccio vedere adesso accendo tutte le luci devo tagliare come faccio? prima di tutto mettiamo la pinza operativa vedete io posso aumentare posso diminuire la sua altezza posso anche andare a alzare vedete con questi controlli superiori su, giù, devo ruotare giro il controller sul suo asse e lui gira devo fare che ne so questo non ha il lampeggiante devo uscire dal veicolo posso uscire dal veicolo tanto è bello anche qui il controller posso utilizzarlo o per il cruise control o per andare a regolare lo zoom passiamo ad un altro veicolo per esempio il camion anche qui posso muovermi per vedere la visuale per attivare le frecce per attivare le luci o meno ok e ho un altro veicolo in teoria che sono ecco la pinza telescopica di Manitou accendiamo il lampeggiante anche in questo caso la visuale non mi piace tranquilla, la regola con i controller tutto molto semplice senza toccare né mouse né tastiera vedete io mi muovo qui con il mio bel veicolo posso salire, scendere devo allungare? no problem premo il classichino il classico tasto e voilà io sono pronto a lavorare con una simulazione tutta sua di Farming Simulator che non è affatto male ovviamente io adesso sto facendo cose strane vi faccio vedere come in realtà si può utilizzare anche ben oltre Farming Simulator per esempio qua sono su Construction Simulator vedete funzionano tutti i tasti ovviamente li dovete impostare voi ma sono riuscito tranquillamente a impostarlo Poderak ma di solito negli scavatori ce ne sono due vero? tant'è che Trasmaster se volete vende anche il kit per Construction Simulator ma facciamo finta non volete spendere ulteriori soldi perché ormai dite oh Poderak io comunque e già ho speso quei 89 euro per questo qui allora puoi tranquillamente impostarlo tu che tasti hai impostato? io ho impostato che per esempio così deve alzare abbassare il braccio personale facendo così lui gira vedete e per il braccio su e giù con questi tasti lui muove la benna mentre con quest'altro tasto lui va a premere vedete per andare a muovere la parte centrale del veicolo negli escavatori questo è una figata perché vi fa risparmiare un sacco di tempo all'interno del gioco e aumenta il realismo poi tutti questi pulsanti li potete configurare io ad esempio ho collegato sempre il T128 e guardate ho impostato in modo che riesco a muoverlo anche senza avere altre configurazioni con tastiera e gamepad una figata cosa ne pensate? avete visto come si integra perfettamente con l'ecosistema di Transmaster per esempio io con il mio T128 che tuttora utilizzo con il sistema di inclinazione mi trovo molto bene ma attenzione non è compatibile solo con i volanti Transmaster potete utilizzarlo anche se avete un Logitech G29 infatti lui non si collega al volante si collega direttamente a una porta USB del vostro PC quindi che voi abbiate Logitech Transmaster o qualsiasi altro brand lui potete utilizzarlo e vi dico anche un confronto veloce con il Cytec lui è stato uno dei miei primi controller per Farming Simulator ma devo dire non l'ho utilizzato tantissimo al di là del fatto che è molto più ingombrante infatti lui va avvitato alla scrivania lui si appoggia ma comunque ha i gommini sotto che lo permettono di rimanere solido ma ha un altro vantaggio questo qui di Farmstick infatti vedete che è un controller non dico in scala 1 a 1 ma comunque piuttosto ergonomico per la mano guardate il controller il joystick di Cytec è piuttosto scomodo ok abbiamo tanti tasti a parte che te li dimentichi un po' tutti i tasti come li hai programmati qui è più intuitivo tutti i tasti sono posizionati in modo che comunque tu te li ricordi e sono anche indicati con dei vari simbolini insomma è più facile secondo me oltre che più adattabile anche ad altri simulator per esempio lui sul mitico construction simulator non è che lo posso utilizzare più di tanto lui invece sì anzi è più adatto perché ha proprio quella ergonomia che abbiamo negli scavatori oppure anche su altri simulator non necessariamente farmi in simulator volendo anche Euro Truck per dire se avete bisogno di tasti ci sono tutti questi tasti che potete utilizzarli ma il vero punto focus secondo me è il prezzo lui di listino costa 89 euro abbiamo 33 tasti ed è più ergonomico lui costa 140 170 euro ergonomia discutibile ovvero utilizzabile per lo più solo su farming simulator piuttosto magari me ne compro due di questi e ottengo ben 66 tasti a confronto di lui che neanche di meno dove lo trovate dove lo troverete perché attualmente va sempre a ruba dovrebbe uscire sul sito di Transmaster e su Amazon io vi lascio il link in descrizione se non dovessero essere disponibili comunque fate sempre attenzione ad esempio al canale delle offerte dove spesso lì appena entrano online io ve lo condivido subito e anche qui su YouTube iscrivetevi e vi annuncerò quando effettivamente li troverete sul mercato mi raccomando lasciate mi piace fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video ciao